terra amara anticipazioni zuley a processo pena confermata demir testimonia contro sua moglie ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi vedremo insieme un'anticipazione che vi terrà con il fiato sospeso per diversi motivi ma entriamo subito nel vivo della trama prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel like al video il vostro supporto è fondamentale per creare contenuti sempre nuovi ci ritroviamo nell'aula di tribunale sta per iniziare il processo dove verrà decretata la sorte di zuley a ma parallelamente vedremo moushgan a casa affidare il piccolo kerem alla zia dicendole di portare il piccolo a casa della caia per intenerirlo e fargli cambiare idea riguardo alla sua volontà di divorziare ma beje non sa che cosa si cela realmente dietro questa richiesta vedremo la dottoressa scrivere una lettera che sembra di addio ad il mas in questa lettera moushgan ribadisce il suo amore per il mas ma dichiara anche di sapere che la caia non l'ha mai amata e che lo capisce se non riesce a perdonarla ma il suo amore per lui la resa totalmente folle la scena poi si sposta in tribunale zuley entra in aula con occhi bassi e schierata dietro di lei ci sono un car fecheli il mas e tutti i domestici ma c'è un grande assente demir infatti non è presente in aula e quindi il giudice vedendo che il testimone ufficiale non c'è sta per annullare l'udienza quando all'improvviso la porta si apre e appare demir zuley assa benissimo che la presenza di demir durante il processo può capovolgere radicalmente la sua sorte vedremo i due guardarsi intensamente e si scorge nello sguardo dello yaman ancora molto odio nei confronti di sua moglie ma ritorniamo moushgan la vedremo in bagno dopo aver scritto la lettera di addio dove affida il piccolo kerem alle cure di il mas la vasca è piena d'acqua e lei lentamente si immerge ancora vestita e prenderà in mano una lametta e vedremo scivolare per terra una piccola calzina di kerem tenuta pochi istanti prima nella mano di moushgan e così si capirà subito che qualcosa di tremendo sta accadendo la scena si chiude con lei che nella lettera scrive il mas ti amerò fino all'ultimo respiro così la vedremo con i polsi sanguinanti immergersi totalmente nell'acqua della vasca da bagno chiudere gli occhi e lentamente spegnersi inizia il processo ed è il turno di demir dove dovrà dare la sua versione dei fatti lo yaman si rivolge alla corte affermando che zuleia è sì la madre dei suoi figli e che sa benissimo che lei non l'ha mai amato nonostante ciò lui ha sempre fatto di tutto per donarle tutto il suo amore e che nessuno l'ha mai amata come ha fatto lui ma lei lo ha più volte disonorato incontrandosi con il mas venendo a meno ai suoi doveri di moglie nel frattempo durante il lungo discorso di demir la scena si sposta sulla vasca da bagno ormai completamente insanguinata con all'interno una musgan priva di vita ma le due le parole di demir scatenano immediatamente la reazione di un care di il mas che cercano di interrompere il discorso esortandolo yaman a dire tutta la verità demir ammette che dopo aver visto il filmato che incrimina zuleia ha perso la testa e ha cercato di ucciderla ma a conti fatti non l'ha fatto ma lei invece gli ha sparato intenzionalmente tre colpi di pistola e quindi quei colpi non sono stati accidentali vedremo così zuleia con il volto pietrificato e gli occhi lucidi sapere benissimo che cosa comporta la dichiarazione di demir un car urlerà il figlio di pensare ai suoi bimbi mentre l'accaia gonfio di rabbia gli dirà di pensarci bene a quello che sta dicendo ma il giudice interverrà facendo zittire la platea così demir con uno sguardo carico di rabbia dichiarerà il giudice di volere la pena massima per zuleia e che per troppo tempo ha sopportato che il suo onore venisse infangato il mas sentendo queste parole si scaglia contro demir ripetendogli di dire tutta la verità ne nasce così una discussione tanto che il mas e demir tireranno fuori le pistole vedremo zuleia di spalle impotente e stanca di questa situazione di eterna lotta tra le due famiglie non vuole assolutamente assistere alla scena dove demir e il mas si picchiano ma all'improvviso uno sparo risuona nell'aula ma sappiamo che un altro dramma si sta consumando vedremo beje rientrare alla villa di fecheli perché si è dimenticata di mettere il biberon di kerem in valigia entrando in casa chiama gran voce la nipote ma nessuno risponde così entrerà nella camera di moshgan e noterà sul comodino una lettera indirizzata di il mas con il volto contratto e preoccupato leggerà la lettera e facendola cadere a terra capirà subito che qualcosa di orribile sta per accadere la vedremo entrare in bagno e scoprirà il corpo di moshgan inerme nella vasca sconvolta cercherà in tutti i modi di aiutare la nipote stringendo degli asciugamani e i polsi per fermare l'emorragia ma moshgan sembra non rispondere vedremo beje correre fuori per chiamare aiuto nel frattempo in tribunale il giudice spazientito dal comportamento di demir e dell'accaia dichiarerà che verranno puniti per aver perso il controllo e soprattutto per aver portato delle armi all'interno del tribunale e così li vedremo dietro le sbarre scontare la loro pena per aver utilizzato delle armi durante un processo il mas dietro le sbarre affermerà ad alta voce che farà di tutto per salvare il suo grande amore zuleia mentre demir inizierà a battere i pugni sulle sbarre intenzionato ad uscire al più presto da lì quando all'improvviso lo vedremo toccarsi il petto trafitto dal dolore moshgan invece verrà portata d'urgenza in ospedale la vedremo sulla barella soccorsa dai medici e beje in uno stato evidente di disperazione dirà di chiamare immediatamente il mas e fecheli per avvisarli di quello che è successo quale sarà la sorte di moshgan ed emir ripenserà alla sua testimonianza o vorrà davvero punire zuleia fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate per oggi le anticipazioni finiscono qui come promesso queste anticipazioni sono state ricche di colpi di scena vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace al video un abbraccio grazie a tutti 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 grazie a tutti